Buongiorno Orchidee di Murosoro, Orchidee una medicina per l'anima, vi ricordo sempre il nuovissimo libro, Orchidee storie e personaggi, quarta edizione, 562 page di Orchidee. Il nostro bellissimo Dendrobium Superbum, guardate che bello, anche molto profumato, ed è, questa è una pianta grande, ma mi ricordo che tanti anni fa, come vi ho già detto in qualche altro video, mi ricordo che alla borsa di Monteporcio Gatone, Bib Garden, che è un garden di Roma, abbiamo presentato una pianta di Superbum incredibile, aveva i rami lunghi più di tre metri, spettacolare, va bene, è anche molto profumato. Allora oggi volevo parlare della cultura delle orchidee webinar, perché ci sono tre associazioni, in Italia ci sono 10-11 associazioni di apprezzionati orchidee, forse che di più, ma tutte le associazioni, non solo quelle delle orchidee, con l'avvento di interesse sono andate in crisi, perché la gente ormai va tutto in internet, su Facebook, YouTube, tutte queste robe qui, tutti i social, e le associazioni ne hanno risentito molto. Beh, ci sono queste tre associazioni che invece sono date in controtendenza, praticamente hanno usato l'internet per ricrescere, facendo tante iniziative, soprattutto i webinar, cioè sono webinar insieme di web e seminar, seminario di internet, prendendo illustri esperti di tutto il mondo, che tengono questi webinar solitamente in inglese, con la traduzione simultanea in italiano. E queste cose hanno molto successo, perché veramente accrescono la cultura delle orchidee. Purtroppo le fanno quasi tutte, a sabato pomeriggio, che io ho da lavorare, cerco di mandare il mio figlio al mondo a vederli, riesco a vedere quelle che fanno di sera. Allora, la prima associazione, ah, ci sono due di queste associazioni, la LAO e la SFO, la LAO è l'associazione Lombardo Amatore Orchidee, che è sede a Varese, e la SFO, la società di Orchideologia, che è sede a Bologna, che hanno fatto qualcosa di più, si sono come associate, nel senso che i soci della LAO possono usufruire di essere come soci e FFO e viceversa. Per cui, i soci possono partecipare a tutte le iniziative delle due associazioni. E questa è l'altra bella cosa. Allora, invece la terza associazione è la OCI Associazione Orchidofili Centro Italia, che è una presidenza in testa molto, molto dinamica, che è veramente, questa associazione qua sta andando molto forte. Allora, adesso vi dico i webinar che ci sono, settimana questa, cioè questo sabato e domenica, e quello di settimana prossima. Allora, a OCI Associazione Orchidofili Centro Italia, sabato 8 alle ore 9, catrea bifogliate, cioè quelle catrea bifogliate sono queste qua, quei fiori più piccoli, queste sono le gradi catreie, le catreie monofogliate, le catreie bifogliate sono queste, durano molto di più delle, sono quei fiori più piccoli, ma hanno forme molto più eleganti e durano decisamente di più che i fiori. Poi, SPO organizza una bevina sull'etolumnia. L'etolumnia sono gli Oncidium equitans, una volta ne hanno chiamati Oncidium equitans, sono gli Oncidium che vivono sui line dei Caraibi. Sono coloratissimi, hanno dei colori incredibili. Sono piante anche piccole che fanno una massa di fiori molto superiore alla massa della pianta. Piante piccole con un casino di fiori, fiori anche abbastanza grandi, ma soprattutto molto molto colorati. E questa conferenza la tiene Guido Brem, un illustre specialista di orchide tedesco, un grande botanico tedesco. Poi, la domenica 9, il giorno sabato, sabato pomeriggio alle 3, questo qui dell'etolumnia, della società persina di orchideologia. Oltretutto, la società persina di orchideologia è veramente, tecnicamente, l'associazione più evoluta, cioè più avanti. Domenica 9, invece, alle ore 10, c'è un webinar della LAO che è Mars de Valle e il tesoro delle Ande. Le Mars de Valle sono veramente, nelle Ande ci sono dei tesori di orchidee piccoline, ma che sono meravigliose. E appunto, questo qui lo tiene la LAO, domenica 9, alle ore 10. Tutte queste associazioni, AOC, Associazione Orchidofili Centro Italia, ALAO, Associazione Lombardo Amatore Orchidee, ESPO, Società Persino di Orchidologia, trovate in internet su Facebook. Sabato 15, alle ore 20 e 30, ecco, questo lo vedrò perché la fanno la sera, la Codigliera del Condor. Sulle Ande c'è questa Codigliera del Condor, che è un dei paradisi della biodiversità, dove c'è il record diversità, c'è tantissimi orchidee. E questa conferenza la tiene il biologo Leisbert Velas Abara. Non l'ho scritto bene. Comunque, queste associazioni qua, possono partecipare i soci dell'associazione, quelli del SFO, sono liberi anche a chi non è socio, con una piccola offerta, quello che vuole, ma basta che dare una piccola offerta. Fare queste cose qua costa. Le associazioni hanno dei costi, hanno delle spese, hanno delle spese anche importanti e soprattutto anche perché sono associazioni attualmente con non tantissimi soci. Per cui, dare una mano a questa associazione, associarsi. La Lao e la SFO hanno fatto anche questa rivista, che è fantastica. Adesso devo vedere quella della OCI, poi faremo una recensione anche su questa. Me l'ha mandato in internet, ma non riesco a aprirlo. Adesso mio figlio che è bravo in internet, vediamo se me lo apre, e faremo una recensione su questa. Però associatevi alle associazioni. Ci sono, come diceva in Italia, 10-11 associazioni. Queste tre che vi ho detto, e quelle che hanno appunto preso la palla al balzo, cioè l'internet che le ha messe in crisi le associazioni, loro hanno preso l'internet per risorgere con questi webinar e con tante altre iniziative che fanno, per esempio nella divulgazione, perché sono veramente queste tre associazioni molto molto attive. Iscrivete, che dovrete iscriversi, cosa costa la Lao? Beh, a scriversi alla OCI, perché mi sono iscritto la settimana scorsa, costa 25 euro. La SFO non lo so, perché sono iscritto a quelli della Lao, è come se fosse iscritto la SFO. E la Lao sarà così, o poco più, perché è la Lao, in più da questi giornalini cartacei, che sono veramente solo questi, valgono altro che la quota di iscrizione, perché sono molto molto belli graficamente, perché è con delle splendide fotografie, ma soprattutto il testo, che è quello che è importante. Va bene, iscrivetevi a questa associazione e partecipate ai webinar che accrescerete molto la cultura delle orchidee. Ok, a domani.